Buonasera, siamo di nuovo in diretta dopo il telegiornale Occhio alla Notizia, pronti per una puntata di Primo Cittadino con il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci. Buonasera sindaco. Buonasera a te Simone e buonasera a tutti i telespettatori. I numeri per intervenire in diretta 0721 86 14 33 potete mandare anche un messaggio oppure con whatsapp al 338 49 68 250. Come avete sentito anche in apertura del nostro telegiornale due comuni che sono Acqualagna e Petriano da mercoledì saranno in zona arancione rafforzato. Ha rischiato sindaco anche Fossombrone? Sì, ha rischiato anche Fossombrone perché nelle ultime settimane l'incremento era stato abbastanza consistente. Per fortuna negli ultimi giorni invece la situazione si è un po' sestata. I dati sono stati costantemente in lieve diminuzione. Oggi per esempio avevamo questa mattina perlomeno 54 positivi contro i 60 della settimana scorsa. Quindi come pensavo e speravo la situazione tranquilla diciamo così degli ultimi giorni ha fatto sì che Fossombrone non venisse sottoposta a questo regime diciamo di restrizioni ulteriori. E la cosa mi fa piacere chiaramente è una bella notizia per la città ma questo non significa che siamo fuori pericolo che si possa fare quello che ci pare. Non è un libera a tutti come ho scritto poco fa su Facebook non appena avuto la conferma ufficiale di questa cosa per cui sempre massima attenzione e prudenza e rispettiamo comunque le regole. Intanto proseguono anche le cure per combattere il Covid. Ad esempio nell'ospedale di comunità è attivo un ambulatorio per la somministrazione degli anticorpi monoclonali. Anche questo è un fattore molto importante. Sì è una cosa importante è una cosa nuova perché partita la settimana scorsa so che già qualche somministrazione è stata eseguita sono cure riservate a pazienti positivi che hanno patologie pregresse quindi rischiano fortemente che la loro situazione clinica possa peggiorare a causa del Covid. Queste cure servono appunto per prevenire un peggioramento del quadro clinico e qui qualcuno mi ha chiesto devo prenotare no chiaramente non è un vaccino. In questo caso è il medico di famiglia che prescrive eventualmente le cure che per fortuna possono essere eseguite anche a Fossombrone che è l'unico ospedale, l'unico punto per ora dell'area vasta uno che esegue questo tipo di trattamento. E c'è anche il centro di stoccaggio dei vaccini e poi un punto di vaccinazione quindi è un comune importante anche per il territorio ma soltanto per i cittadini stessi. E' veramente stato diciamo in prima fila nella battaglia contro il Covid. Come dicevi tu abbiamo il centro di stoccaggio provinciale, abbiamo un centro di vaccinazione istituito all'interno del nostro punto per lievi dove sono state vaccinate alcune categorie come personale sanitario, docenti universitari, alcune categorie di fragili. Questo appunto è un ulteriore sforzo che viene richiesto dalla nostra struttura ma soprattutto volevo ricordarti il fatto che da noi ci sono pazienti Covid positivi. Abbiamo un reparto che ospita diciamo come numero massimo 31 pazienti, non so in questo momento quanti ce ne sono esattamente, mi pare che il dato sia un po' in calo anche in questo caso fortunatamente. Però diciamo che Fossombrone ha fatto sicuramente la sua parte nel combattere questa maledetta pandemia. E i lavori all'ospice? I lavori all'ospice sono andato proprio questa mattina a fare un sopralluogo, ancora fisicamente non sono partiti, ho parlato col primario chiedendo a lui dell'elucidazione, mi diceva che stanno aspettando di ultimare gli ultimi incartamenti, dovremmo veramente quasi esserci. Un progetto che va avanti ormai da tanto, troppo tempo, ci sono stati una serie di ritardi dovuti chiaramente anche al Covid stesso, però dovremmo essere vicini alla partenza dei lavori e quindi vedere realizzato questo progetto importante di raddoppio da 10 a 20 posti letto. Insomma tanto. Si è discusso anche sui fondi stanziati dal governo BIS, quindi parliamo di bilancio, logicamente ci sono più di 2 milioni e 600 mila euro per le opere pubbliche, quali? Dunque opere ne abbiamo tante. Si parla del prossimo triennio, giusto? Sì, in cantiere ce ne sono tante, noi adesso ci concentriamo su quelle che dovremmo portare avanti nei prossimi mesi, opere che non mi nascondo, pensavamo, speravamo di riuscire ad iniziare prima, poi una serie di motivi, tra cui anche qui in questo caso la pandemia che non è, non vuole essere un alibi dietro il quale nascondersi, però indubbiamente ha rallentato un po' tutto, sono opere importanti. Mi riferisco ad esempio ai giardini di Viale Cairoli, giardini ammalorati ormai da diverso tempo che necessitano di un restyling e lì abbiamo stanziato circa sui 200-250 mila euro. Così come è importante il rifacimento del lato Viale Martiri della Resistenza, lato Caserma dei Carabinieri, anche questo è un lato molto ammalorato, un marciapiede che ha bisogno di essere rifatto e anche qui abbiamo stanziato oltre 300 mila euro. Questi sono due lavori importanti dei quali vorremmo vedere quantomeno la partenza entro l'estate. Altri due opere importanti, mi avviso che volevo ricordarti, sono gli interventi per l'adeguamento sismico di due scuole, che sono la scuola della frazione di Calmazza di Borgo Sant'Antonio, sono due scuole che hanno avuto dei finanziamenti da parte del MIUR, 200 mila euro circa a testa, ai quali il Comune ha aggiunto altri 50 mila euro, quindi si tratta di 500 mila euro di lavori per rendere queste scuole norma dal punto di vista della sismica. Anche questi sono lavori che dovrebbero partire abbastanza velocemente. Poi abbiamo anche altri lavori importanti, mi riferisco ad esempio a una serie di asfalti di cui qualcosa abbiamo già fatto, però ce ne sono altri che stanno per partire. Dovremmo avere anche delle foto, Sindaco, così ci dice anche qual è la via. Ok, questa è la strada di Corbiano, zona San Piero in Tambi, su una frazione, anche qui la strada era veramente disastrata, l'abbiamo rifatta con un'asfaltatura da fondo, quindi non è stato un po' il solito rattoppo che per troppo tempo si è fatto non solo in questa strada ma anche in altre, per cui necessitava veramente di un intervento a fondo. E qui abbiamo speso circa sui 150 mila euro, se non ricordo male, e una cosa simile faremo anche in un'altra zona, in una località però questa volta Isola di Fano, una località Cignano. Abbiamo in programma anche questa importante, molto attesa dagli operatori economici, la zona industriale di Ghilardino, dove qui anche qui c'è un lavoro che necessita assolutamente di partire, non dovrebbe essere lontani, più altre zone interne. Ma si parla sempre del periodo primaverile? Sì, sì, questi sono lavori che secondo me dovrebbero partire nel giro di qualche settimana, massimo un mese o due, non di più. Ok, ci hanno segnalato anche via Roma e via Passionei. Allora, quelle sono due vie veramente messe molto male, effettivamente, sulle quali non siamo, lo ammetto tranquillamente, riusciti fino ad oggi a intervenire. Sono due progetti che, specialmente quello di via Roma, che poi è un tutt'uno, diciamo così, con via Passionei, vanno assolutamente rifatte. Non siamo riusciti, parte anche per i problemi avuti, ripeto, la pandemia e quant'altro, ma soprattutto ci siamo concentrati su altre priorità, dando la precedenza alle strade di campagna. Questo mi è stato anche a volte contestato sul fatto che magari fosse anche poco furbo da quel punto di vista, a testimonianza del fatto che interveniamo dove c'è veramente bisogno, perché erano frazioni quasi isolate, vista la situazione della strada, piuttosto che fare un'opera che colpisca un po', no, nel centro storico, che sia più di impatto visivo, però non nascondo che anche quella è un'opera importante che va assolutamente fatta. Non è tra quelle che partiranno a breve, però. Rimaniamo sulla strada per parlare di attraversamenti piedonali illuminati, ma prima le voglio leggere un messaggio che ci è appena arrivato. Sindaco Bonci, vorrei far notare che il parcheggio del bocciodromo dove c'è la palestra e la piscina alla sera è completamente al buio e quindi anche le ragazzine che escono dagli allenamenti alle 21.30 circa devono attendere i genitori sempre al buio. Non c'è sicurezza e quindi sarebbe bene posizionare dei lampioni che tra l'altro sono quasi tutti rotti, ci scrivono. Adesso questo magari non mi era stato evidenziato in precedenza, magari ne terremo conto per fare un sopralluogo. Invece per quel che riguarda gli attraversamenti, questo è il quinto che abbiamo installato durante la nostra amministrazione, tutto nel giro dell'ultimo anno e mezzo, due anni. Mi sembrava importante perché sono attraversamenti che garantiscono una maggior sicurezza ai pedoni in quanto si illuminano quando il pedone si avvicina all'attraversamento e preme il pulsante per allertare le auto del suo passaggio. E quindi rimedisco un intervento del quale sono comunque contento, soddisfatto che sia stato portato a termine e questo è l'ultimo che abbiamo messo ed è l'ultimo il momento che abbiamo in programma di fare. A proposito di asfalti, chiedono anche via della conserva. Dicono un po' che stiamo aspettando. Lì c'è un discorso più complicato nel senso che siccome c'è un progetto importante che riguarda un'area commerciale in quella zona, per quel momento non siamo ancora intervenuti e non abbiamo intenzione di intervenire se non intanto con dei rattoppi per tirare avanti in attesa che si porti a termine quest'opera importante che riguarda proprio quella zona. Allora, ancora altri messaggi dei telespettatori. Andiamo qua, parliamo cultura, lasciamo per dopo. Pista ciclabile, c'è stata una diattriba. Intanto cerchiamo di far capire anche ai telespettatori che non sono residenti nel comune di Fossombrone che cosa è successo. C'è stato un sopralluogo, o meglio un incontro, con l'assessore regionale Baldelli proprio per parlare di questa ciclovia. E lì erano state fatte delle promesse. Che cosa era successo? Diciamo che intanto vado un attimo indietro. Noi come amministrazione e anche come movimento siamo sempre stati favorevoli a un ripristino della ferrovia, quantomeno ad un uso turistico, perché pensare ad un trasporto merci o di persone su larga scala mi sembra quantomeno improbabile in questo momento. Però un uso turistico non è da escludere. Per cui abbiamo sempre chiesto di salvaguardare la ferrovia, i binari che non venissero coperti definitivamente da una pista ciclabile. Per quanto il progetto non mi dispiace, anzi questo nuovo progetto che la regione sta portando avanti, che si allontano ulteriormente dal sedime ferroviario, mi consente di guardare di buon occhio anche una pista ciclabile. E diciamo l'incontro con l'assessore Baldelli era finalizzato al fatto di avere garanzie sul fatto appunto che la ciclovia, chiedo scusa, arrivasse anche nel nostro comune. L'assessore che conosceva già Fossombrone ha convenuto che la nostra cittadina è chiaramente importante dal punto di vista artistico, adesso non voglio fare l'elenco nei vari musei, quadreria, piuttosto che chiesa di San Filippo, eccetera, ma anche dal punto di vista paesaggistico, le cesane, le marmitte dei giganti che negli ultimi periodi hanno avuto un vero e proprio boom, per cui una ciclovia che arriva a Fossombrone mi sembra il minimo necessario proprio per valorizzare la ciclovia stessa, per cui da quel punto di vista abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che a breve verrà presentato un progetto che coinvolge appunto anche la nostra città e non si ferma fino a Colle al Metauro come era quello precedente. E poi questo progetto è saltato, si sta lavorando appunto, quello precedente è saltato, quello della vecchia amministrazione, si sta lavorando ad un nuovo percorso e quindi ha già delle notizie, delle informazioni? No, diciamo no, se non il fatto che non dovrebbe tardare molto prima che ci si incontri con funzionari tecnici regionali proprio per discutere nel dettaglio il nuovo progetto. E anche aver la conferma che possa essere allungato? Beh, su quello che arriva a Fossombrone lo do per scontato, diciamo, insomma, ancora sono un po' forse un po' ingenuo, un po' nostalgico, ma secondo me una stretta di mano ha ancora un valore. Poi con l'assessore Baldelli c'è un rapporto consolidato da quando era sindaco, per cui... Quindi è abbastanza tranquillo su questo. Sì, su questo sono convinto assolutamente. Anche per quest'anno prevede lo sgravio per la bolletta Tari, per le famiglie e le imprese come lo scorso anno? Ci aggiunge anche, volevo ringraziarla per il grande lavoro fatto per mantenere l'ospedale pubblico. Grazie, fa piacere. Quello è un impegno che porta avanti da sempre, cercando di fare il possibile. Chiaramente non sempre si riesce ad ottenere quello che si vorrebbe, ma comunque un impegno costante. Tant'è che anche oggi sono andato a fare un sopralluogo e sono emerse criticità che stiamo cercando di affrontare, di risolvere un po' la volta. Per quel che riguarda lo sgravio, ecco come ha evidenziato questo cittadino, lo scorso anno abbiamo stanziato 250 mila euro di risorse di bilancio per abbassare la Tari, sia per le partite IVA che per le famiglie. Adesso andremo entro fine maggio ad approvare il rendiconto e non escluso che si possa ripetere qualcosa sulla falsariga dello scorso anno. Soldi ci sono, la volontà c'è, per cui spero proprio che si riesca a portare avanti anche quest'anno. Quando svuotano i contenitori del vetro, chi deve pulire in questo caso? Perché quello che rimane fuori poi diventa pericoloso per tutti. Sì, quello è vero, guarda, noi per quel che riguarda i rifiuti con ASET, con i quali abbiamo rapporti anche qui costanti e segnaliamo questi piccoli disservizi che potrebbero essere superati con un po' di più occhio, diciamo così, da parte degli operatori, perché comunque l'isola ecologica, non solo per quel che riguarda il vetro, che chiaramente è il materiale più pericoloso, ma lasciare intorno un po' di rifiuti dà l'idea di una cosa gestita in maniera forse un pochino leggera, non un po' superficiale. Per cui abbiamo sempre chiesto di essere maggiormente accorti da quel punto di vista. Anche loro ci stanno lavorando, chiaramente ecco, anche qui non è che c'è la bacchetta magica, però sono tutte cose che stiamo cercando di portare avanti, perché tenerle in ordine dà l'idea di un servizio più efficiente. Quando riusciremo ad avere una multisala per ospitare concerti, ma anche eventi culturali, visto che San Filippo è un luogo troppo delicato per ospitare un numero troppo alto di pubblico? Sì, è vero, San Filippo è un museo già di se stesso, per cui è anche un peccato, è un delitto violentarla, diciamo così, con eventi che non c'entrano nulla. Ecco, può essere riservata iniziative, non so, di musica classica, musica da camera, concerti, ma non chiaramente eventi di massa. E qui abbiamo un discorso che abbiamo cercato di portare avanti, ma anche qui poi abbiamo dovuto dare la precedenza ad altre situazioni, però noi sai che abbiamo questa vecchia struttura della casa di riposo, ex casa di riposo al centro della città, una struttura enorme, sulla quale stiamo facendo delle indagini, dei carotaggi, degli studi, per capire se possa essere in qualche maniera riutilizzata per altri scopi, tra cui quello potrebbe esserci quello che mi dicevi poco fa, perché effettivamente a Fossumbrone manca, manca un teatro, manca un cinema, non da ieri, non da quando ci sono io, ma manca da tanto troppo tempo. Per cui quello sarebbe un progetto importante, ancora siamo veramente agli albori, però abbiamo questa risorsa, potenziale risorsa, che vale la pena valutare se come e se e come poterlo mettere a disposizione della cittadinanza. Prima di andare avanti con i messaggi dei telespettatori vorrei mandarne io una casa, non leggerò cattivere gratuite, perché questo è un programma fatto per cercare di migliorare il comune, di mandare delle segnalazioni, di fare delle critiche anche costruttive, ma non distruttive. Volevo dirle che diversi telespettatori ci stanno segnalando una città un po' sporca, con anche sfalci dell'erba che sono effettuati un po' poco. Anche in questo caso ne risponde Aset, come nel comune di Fano? No, in questo caso no, il verde è affidato al comune, noi lo diamo in gestione solitamente tramite gara d'appalto, proprio oggi è partito il taglio, ma tutti gli anni si parte a maggio, poi dipende anche dal clima, magari un clima caldo e umido favorisce una maggior crescita, però oggi appunto sono partiti e quindi nel giro di un paio di settimane, tempo permettendo, faranno tutto il giro del comune come tutti gli anni. Per quel che riguarda invece le vie cittadine, la parte vecchia della città, lì stiamo mandando avanti un progetto che ormai facciamo da un paio d'anni con Hauser e anche l'Inter verremo breve. Per cui questa cosa di Fossombrone sporca sinceramente un po' mi fa arrabbiare, perché secondo me non siamo né troppo sporchi né troppo puliti, dipende da come ci si voglia vedere, perché poi è chiaro, nessuno va a cercare le cose, penso che tutte le città abbiano delle criticità. Credo che siamo nella norma, nella media, come può essere Fano, Pesano. Anche perché a volte siamo noi cittadini a sporcare la città. Quello guarda, io assolutamente, io spesso mi unisco a un gruppo di volontari che hanno almeno una volta al mese, anzi proprio sabato scorso, pochi giorni fa hanno fatto una pulizia delle marmite dei giganti, che è un po' uno dei nostri gioielli, hanno trovato veramente di tutto, da pneumatici, gettati dalla strada, quindi in primis cerchiamo ognuno di tutelare il proprio pezzetto di città, perché la città, come dico sempre, non è di nessuno ma è di tutti, quindi se ognuno tenesse a cuore e custodisse il piccolo proprio orticello già saremmo molto in avanti. Poi è chiaro, l'amministrazione spettano dall'inconvenza, ma già i cittadini possono darci una mano. E ripeto, non vedo un disastro come spesso si vuole dipingere, che secondo me passa anche un brutto messaggio a livello di pubblicità. Certo, la città non fa bene. Premi ai dipendenti aumentati di 18 mila euro in controtendenza alla campagna elettorale, mi conferma questo dato? No, non è vero, diciamo che ci sono delle norme che sono cambiate a livello statale, per cui abbiamo dovuto adeguare l'indenità ai dipendenti. Io sono dell'idea che se un dipendente lavora e si comporta bene e collabora è giusto premiarlo, per cui l'aumento è stato dovuto a questo contratto nazionale che è cambiato, per cui non è stata una nostra alzata d'ingegno, ma ci siamo adeguati alle normative. Bene. Buonasera, una domanda. In zona San Pietro, in Tambis, arriva gente da tutte le parti a svuotare dei rifiuti. Si possono fare, ad esempio, ci dicono perfino delle lavatrici, si possono fare maggiori controlli? Ma guarda, questo è un problema annoso che riguarda tutti i comuni, io credo. Noi abbiamo un comune che sono circa 150 km2 e monitorarlo tutto è pressoché impossibile. Parlavamo prima di civiltà, no? Questo è un esempio. Quindi demandare tutti i controlli alle forze dell'ordine, a chi sia, o alle telecamere, non è una battaglia persa in partenza. Se ognuno facesse tutto il resto, anche questo poi è inconcepibile, perché comunque sappiamo bene che ci sono dei centri di raccolta permanenti, oppure semplicemente telefonare al gestore che viene a casa per levare il rifiuto, per cui portarlo in una scarpata in campagna non ha assolutamente senso. È chiaro che dove riusciamo a pizzicare, diciamo così, chi ha infranto la regola, la sanzione arriva. Però, ripeto, controllare tutto e tutti contemporaneamente è impossibile. Le segnalano che la sepe nella rotatoria Portafano ha un'erba molto alta, appunto, erba sepe, quindi non si vedono le auto che transita. No, guarda, anche questo vi sento di smentirlo, perché, guarda, ho fatto un video proprio qualche mese fa su questo che era diventato un argomento di discussione. In realtà non preclude alcun tipo di visibilità, assolutamente. La macchina, anche perché tu, attraversando la rotatoria, devi controllare quelle che sono le vie, no? Diciamo, da destra a sinistra, che si intersecano con la tua, per cui non è che devi vedere cosa succede dall'altra parte della rotatoria, però ti assicuro che la visibilità è assolutamente garantita, anche se c'è una sepe che ha una certa altezza, ma perché tenerla più bassa può essere brutta a livello estetico. Questo ragionamento l'abbiamo fatto, abbiamo convenuto che va bene com'è. Bene, allora, un'altra segnalazione. Ci dicono che, sempre per l'illuminazione stradale, via del forno e via delle anfore, ci sono dei lampioni che purtroppo sono malfunzionanti e quindi luci a volte che si spengono, in certi orari si accendono, insomma, quindi magari da controllare. Cercherò di ricordarvi, però ne approfitto per invitare i cittadini a segnalarlo tranquillamente all'ufficio tecnico, queste segnalazioni, perché poi vengono affrontate non appena possibile. Una piccola pista per skateboard? Guarda, questa è una cosa che... Noi in realtà abbiamo, non è proprio una pista di skateboard, però abbiamo un parco, il parco dedicato a Manganelli, in zona ponte, diciamo così, di Fossombrone, che viene utilizzato in effetti dai ragazzi, però non ha quello che serve proprio per gli skater, per cui scivoli, rampe. È un'esigenza che comincia a essere molto diffusa, per cui potrebbe essere un argomento interessante sul quale ragionare, vedere dove e come portarla a termine. Le chiedono, hanno chiamato regia per asfaltare la strada che da Calmazzo va a Fossombrone. Ecco, questa al momento non è tra quelle che abbiamo messo come prioritarie, però siccome stanno affioccando diverse segnalazioni in tal senso, evidentemente necessita quantomeno di un sopralluogo e decidere appunto anche qui un intervento. Come giustifica il fatto che nei giorni scorsi non c'è stato nessun tipo di intervento da parte dei vigili urbani nei bar dove c'erano tanti giovani assembrati? Anche qui mi sento di smentire perché stesso discorso, è impensabile che possano controllare tutti i locali nello stesso momento. Io con le forze dell'ordine mi interfaccio quotidianamente chiedendo chiaramente controlli e anche qui bisogna che ci affidiamo un attimino anche al senso di responsabilità dei ragazzi, ma non solo, perché come dicevo prima monitorare tutto e tutti insieme è impossibile. Ci sono stati dei controlli, c'è stata anche la chiusura di un esercizio per qualche giorno con tanto di sanzione che non aveva rispettato, per cui i controlli ci sono. Però ecco, torno al discorso di prima, ognuno deve nel suo piccolo dare il contributo anche nella battaglia contro il Covid perché anche qui non è pensabile che solo dall'alto si possa tenere sotto controllo la situazione. E ne approfitto per dire che forse queste chiusure prolungate io capisco che è difficilissimo gestire la situazione dall'alto, per cui qualsiasi cosa si faccia si sbaglia, però ecco il tenere dentro casa la gente fa sì che non appena si riapre ci sia questa voglia eccessiva forse di sfogarsi, per cui otteniamo forse l'effetto contrario. Locali chiusi la gente si assembra anche nelle case, quindi quello che ho sempre detto forse è quello che è mancato, sono maggiori controlli all'esterno, perché poi fondamentalmente all'interno secondo me le regole tutto sommato vengono rispettate, dove più dove meno, parlo delle scuole per non parlare di cinema, palestre, teatri, dove credo che veramente all'interno si sia fatto tutto bar, ristoranti, tutto quello che andava fatto, e il fuori che effettivamente diventa difficile da gestire se tutti non danno la propria mano, per cui controlli comunque ce ne sono. Le chiedono che cosa ne pensa di una rotatoria dove c'è il metano? Allora lì la strada è provinciale, per cui sarebbe un discorso da ragionare eventualmente con la provincia, ecco non è una priorità, non è una cosa della quale abbiamo riflettuto, però sarebbe da fare un ragionamento insieme alla provincia in questo caso. Parliamo di frane invece, ce ne sono diverse? Due. Due, appunto, dovremmo avere le foto intanto se riusciamo a farle vedere dalla regia. Partiamo da questa, Sina. Questa è un'altra cosa però, questa è una frana di calmazzo che risale tanti anni fa, che era peggiorata nel corso degli anni e qui sinceramente grazie al nostro continuo, diciamo così, appello alla regione affinché intervenisse, sono effettivamente intervenuti, i lavori sono quasi conclusi, è un lavoro che è costato mi pare intorno ai 300-350 mila euro, però interamente regionali. ringrazio la regione per essere intervenuti, è un lavoro che aspettava già da tempo di essere eseguito, grazie soprattutto alla costanza dell'assessore che ha martoriato i funzionari finché non portavano... Quindi in qualche modo anche il comune ha dato il proprio contributo perché logicamente i rapporti con gli enti... Sì, è una situazione che ci hanno segnalato i cittadini prima delle elezioni, che è località calmazze, da tanto che non veniva, diciamo che era stata abbandonata, la situazione stava peggiorando e qui grazie, ripeto, soprattutto all'impegno dell'assessore Ligi Pammela che ha portato avanti con insistenza la cosa finché appunto la regione è intervenuta. Poi abbiamo anche la frana di Sant'Anna. Sì, qui fra la Sant'Anna invece c'è stata anche un'altra frana del ponte di San Martino dei Muri, sono due frazioni che hanno subito... Infatti, proprio adesso, dicono, quando partiranno i lavori? Guarda, sono due eventi che chiaramente sono imprevisti, perché parliamo di frane, quindi non eravamo pronti ad affrontarle, logicamente, o quantomeno non era in programma di intervenire, e stanno creando grossi disagi effettivamente ai cittadini, ne siamo ben consapevoli, abbiamo cercato di fare il possibile e abbiamo comunque, i progetti sono pronti, abbiamo stanziato i soldi adesso con l'approvazione del bilancio, per cui qui mi sento di poter dire che entro il mese di maggio, non più là comunque dei primi di giugno, partiranno entrambe gli interventi, per cui anche qui dovremmo essere arrivati vicini alla conclusione di questa telenovela che si è trascinata anche troppo, anche oltre le nostre volontà. Manto stradale delle cesane, è previsto? Beh no, le cesane non sono di pertinenza, anche qui la viabilità è provinciale, il demagno è una foresta demagnale, per cui le cesane sono una realtà importante, sulla quale stiamo lavorando ad un progetto, te lo do non dico in anteprima, perché già qualcosa è uscito sui giornali, se ne è parlato, un progetto che appunto prevede la valorizzazione di questa risorsa enorme che abbiamo non solo a Fossombrone, perché riguarda anche altri diversi comuni, ed è una realtà che viene frequentata anche da tante associazioni, parlo del CAI, parlo dei biker, e quindi stiamo cercando di portare avanti un progetto ancora in fase embrionale che però coinvolga veramente non solo le amministrazioni, ma anche coinvolga le associazioni in modo tale che ci sia spazio per tutti e venga appunto valorizzata, e a quel punto si dovrà ragionare anche sul discorso di abilità che in alcune zone è veramente compromessa. Vorrei sapere qualcosa della situazione a Remse, perché era stata bloccata per il vincolo paesaggistico, anche con l'impatto visivo. Sì, lì è ancora la situazione in stand-by, non posso sbilanciarmi, non è che noi siamo rimasti con le mani in mano, però non ho al momento notizie nuove rispetto a quella che è il fermo attuale. La ringraziano anche perché tiene sempre aggiornati i cittadini sulle sue pagine Facebook, tra l'altro non tutti lo fanno, però insomma suppongo che essere informati quotidianamente specialmente sul Covid ormai c'è questo reportino che è diventato un classico di tutti i giorni, mi ci vogliono veramente pochissimi minuti, la gente ha visto che ha piacere di essere informata, anche se in realtà adesso questi dati sono disponibili anche al pubblico indistinto grazie ai siti dalle regioni. Però ecco, al di là del discorso Covid, tutto quello che facciamo secondo me è bene che la gente lo sappia, nel bene o nel male, credo che sia doveroso da parte dell'amministrazione informare i cittadini di quelle che sono le iniziative dell'amministrazione che riguardano la propria città e purtroppo dovranno a questa parte anche quella che è la situazione pandemica. Sindaco, abbiamo ancora tanti messaggi da leggere ma ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità. Torniamo tra poco. Ok. Bene, siamo tornati in diretta prima di andare avanti con le varie segnalazioni. Mi è arrivato Sindaco un messaggio carino però me lo deve confermare lei. Una cosa che va riconosciuta è l'empatia del Sindaco. Il posto su Facebook del suo gattone Tito è il primo cittadino alle prese in tempi di lockdown con il sollevamento casse d'acqua al posto dei pesi in palestra ha infiammato il cuore di mamme e ragazzi ci dicono. Ormai Tito è il gattone del Sindaco e la mascotte del comune. Ma è così? Sì, Tito è il mio gatto un gattone abbastanza corpulento diciamo così e in effetti durante il primo lockdown specialmente mi divertivo a fare dei video che servivano per stempare un po' la tensione servivano a me anche per trovare un po' di evasione. era diventato un appuntamento quasi quotidiano molto atteso molto seguito e vabbè tanto ripeto soprattutto era un attimo di distrazione sia per me ma anche per chi mi seguiva. Ritorniamo alle segnalazioni le chiedono del rifacimento delle mura isola di Fano se insomma è previsto qualcosa oppure si potrà pensare. Al momento no però anche questa è una cosa che aspetta di essere fatta effettivamente. Il lunedì c'è il mercato dove c'è il mercato solitamente ci si parcheggia quindi o si fa il mercato nella buca oppure si tolgono due bancarelle e si fa un'entrata per andare e viene chiamata comunemente così no? Conosciuto Fossombrone come buca in realtà è piazzale Papa Giovanni Paolo II è un ampio parcheggio gratuito nel cuore della città e effettivamente c'è questo quasi paradosso che il giorno di mercato quel parcheggio sia inaccessibile perché l'ingresso è ostruito dalle bancarelle noi abbiamo ragionato tanto sia con gli ambulanti ma abbiamo fatto fare anche dei progetti per capire se c'è la possibilità di modificarne l'assetto e la volontà c'è ripeto tecnicamente non abbiamo trovato ancora una quadra una soluzione perché abbiamo ragionato anche se l'opportunità è di portarlo almeno in parte anche lungo il centro storico un po' di bancarelle però sono talmente tante che facciamo fatica a spostarle perché negli anni è aumentato in maniera molto consistente il numero degli espositori e quindi quello che era perché io mi ricordo da bambino il mercato era lungo il corso e effettivamente è più bello secondo me il mercato nel centro storico però c'è un problema proprio di spazi per cui stiamo ragionando ancora su come trovare una soluzione perché effettivamente ripeto è quasi paradossale che il giorno in cui servirebbe quel parcheggio che è gratuito ed è molto grande non sia accessibile però ancora ad oggi ammetto non si è riuscito a trovare una quadra nonostante ripetuti incontri ai progetti che abbiamo affidato anche a società esterne ci stiamo ancora lavorando anche perché ci sono delle questioni di sicurezza quindi non è solo esatto anche un mercato oggi nel centro storico non è più come un tempo oggi va garantita la viabilità dei mezzi di soccorso per cui non è così semplice per cui ripeto la volontà c'era c'è tuttora ma non siamo ancora riusciti a trovare una soluzione e chiedono se è possibile regolamentare il traffico davanti al bocciodromo visto che gli accessi da Via Marconi e dalla piscina comunale nonché dallo stadio per immettersi sulla Flaminia richiedono anche tempi molto lunghi per una rotatoria non ci sono degli spazi adeguati però si potrebbe pensare a un senso unico di uscita verso via della conserva quello in effetti è un incrocio molto trafficato per via della presenza di numerose attività gli impianti sportivi la banca altre tilcone nel supermercato per cui lì forse un intervento va ragionato è una strada provinciale anche quella per cui anche lì eventuali modifiche vanno concordate con la provincia l'appalto invece del bar bocciodromo a che punto è? dovremmo uscire col bando saremmo dovuti uscire già da tempo sinceramente poi abbiamo pensato che in questo momento forse non è il momento migliore per una cosa di questo genere però è una cosa che stiamo ultimando ci segnalano ancora ma ne abbiamo parlato prima via del forno via delle anfore via Ripa a Paterna e poi da Calmazzo la strada che va da Calmazzo a Fossombrone all'altezza del ristorante al lago perché è in condizioni insomma un po' pericolose si potrebbe dare anche una potata ai pini in via delle vigne che non sono messi molto bene ma guarda noi sul verde siamo intervenuti anche di recente per cui stiamo cercando di portare avanti anche lì una manutenzione del verde organica diciamo chiaramente anche lì comunque ci vuole un po' dobbiamo farne un po' la volta logicamente per cui qualcosa abbiamo già fatto e qualcosa dovremmo fare in futuro via Roma questo qui l'avevamo detto il marciapiede dal bar Trebbis ai Carabinieri quando verrà aggiustato? era quello che ti dicevo prima Simone per cui dovrebbe partire anche questo entro l'estate e il parco Carloni quando potrà essere riperto? volevamo già riaprirlo perché effettivamente è il parco principale della nostra città sul quale siamo intervenuti anche con un'opera di potatura qualche mese fa che ha generato anche questa uno sciame di polemiche però siamo intervenuti per metterlo in sicurezza con l'abbattimento di alcune piante che risultavano pericolose e dobbiamo pulirlo stanno iniziando per cui ho conto che da qui a una settimana a 10 giorni al massimo saremo in grado di riaprirlo ripulito e rimesso in sicurezza andiamo in via Flaminia nei pressi dell'ambulatorio medico dopo numerosi reclami anche per la velocità eccessiva sopra le strisce pedonali è un luogo diventato pericoloso perché passano anche tante persone dopo il trasferimento della farmacia e dei vari medici pensate di prendere dei provvedimenti per o aspettiamo il morto quindi per dei rallentamenti comunque l'attraversamento pedonale c'è tra l'altro anche illuminato come quelli che abbiamo visto prima per cui penso che più di tanto non si possa fare anche qui bisogna che chi guida stia un attimino prudente perché comunque anche in questo caso anche perché mettere dei dissonori lungo la via diciamo lungo le strade creano comunque dei problemi anche lì parliamo di strade provinciali però da parte nostra ripeto la segnaletica è stata messa anche più di quella che c'era in precedenza qui ecco un po' di prudenza da parte di tutti non guasta le segnalano che le segnalano che nel parcheggio adiacente allo studio medico in via famiglia il parcheggio è tutto flagellato dalle radici dei pini e avevano fatto anche una segnalazione un paio di anni fa perché c'è una pianta pericolosa e quindi sarebbe bene insomma intervenire anche lì ci dicono ho sentito della sfaldatura d'isola di Fanno vorrei sapere se comprende anche Montalto no non credo per il momento ribadire la zona è quella di Cignano devo andare un attimo a fondo adesso dico la verità in questo caso non ti so dire se arriva fin dove arriva ammetto candidamente che in questo caso non ho presente bene il progetto per cui devo verificare e chiedono anche se è possibile accendere i lampioni in via delle vigne in zona Pepe e spegnerli invece in delle zone isolate dove non passa nessuno e l'erba anche da tagliare in zona via Querciabella perché è molto alta sì bella erba da tagliare dappertutto ripeto sono partiti oggi per cui piano piano arrivano ovunque passiamo adesso al settore della cultura intanto ricerco subito un messaggio che ci era arrivato prima di andare in diretta eccolo qua parlate comunque di cultura di promozione turistica come conciliate questa tendenza con il biglietto da visita un po' poco edificanti qui lo stesso facevano riferimento all'erbace e quant'altro altra parliamo di cultura in 5 anni di amministrazione avete elaborato un progetto alternativo per il restauro della biblioteca Passionei dato che quello esistente non era di vostro interesso gradimento sono due cose parallele oppure ma guarda la biblioteca effettivamente è un argomento sul quale dovremmo lavorare abbiamo trovato all'inizio del nostro insediamento un progetto che non abbiamo ritenuto di condividere perché a mio avviso era accessivo rispetto a quelle che sono le esigenze di un paese di poco più di 9000 abitanti era un progetto molto impegnativo economicamente per cui in quel momento si è deciso di non portarla avanti non abbiamo ancora elaborato un nuovo progetto però la biblioteca è sicuramente una priorità per un eventuale futuro mandato poi torniamo un attimo sulla cultura ma volevo chiedere intanto per la raccolta differenziata perché comunque è aumentata la percentuale e questo va dato merito questo mi fa piacere pochi giorni fa ho ricevuto la notizia da parte di Aset proprio oggi ho fatto un comunicato su Facebook dove risulta appunto che la nostra percentuale è cresciuta di circa tre punti da un 66 e qualcosa siamo vicini a un 70% e la cosa mi fa piacere perché noi cerchiamo sempre di stimolare la popolazione a fare una raccolta differenziata corretta che è importante sia dal punto di vista ecologico ambientale ma anche economico perché sappiamo bene che più la raccolta differenziata è corretta e meno tasse ci sono sui rifiuti per i cittadini detto in parole molto povere e peraltro l'aumento nel 2020 è particolarmente significativo a mio avviso perché buona parte dell'anno è stata condizionata dalla pandemia e sappiamo che le famiglie soggette a quarantena non possono farla differenziata per cui questo dato secondo me in un anno normale sarebbe stato forse ancora più importante è un dato ripeto risultato importante ringrazio i cittadini perché comunque ci stanno seguendo in questi continui stimoli ringrazio Aset l'impegno che chiedo è quello di fare ancora di più perché ci sono comuni che superano tranquillamente il 70-75% anche nella nostra zona per cui si può ancora migliorare tanto invito e ne approfitto per invitare di nuovo tutti ad scaricare Junker questa app creata da Aset che è molto utile molto utile perché intanto ti spiega a casa come diversificare i rifiuti ma ti avvisa anche quando è ora di mettere fuori la carta piuttosto che il secco quindi una cosa carina che evidentemente ha portato qualche piccolo contributo a questo miglioramento visto che insomma è un dato che ci fa ben sperare per il futuro le chiedono se è possibile costruire un piccolo impianto per la società a calcio 5 dunque guarda ci sono delle realtà dove si può giocare a calcio 5 adesso in questo caso la richiesta specifica non so cosa si è riferita però abbiamo dei campi da calcetto in cui giocano appunto società mi riferisco a un campetto comunale zona pep per cui ecco adesso non so nello specifico però invito le società magari a presentare una richiesta scritta direttamente al comune o a chiedere comunque un contatto diretto con noi il lavoro per i ragazzi come l'anno scorso quest'anno si potrà ripetere? dunque questo progetto di alternanza scuola lavoro diciamo sono ormai due anni che non si fa purtroppo a causa pandemia perché non sapevamo bene le attività se come quando avessero potuto riaprire avrebbero potuto riaprire e era un progetto molto interessante con grandi diciamo grosso entusiasmo da parte dei ragazzi e buoni riscontri anche da parte delle attività purtroppo né nel 2000 a parte è cambiata anche la normativa regionale che rende più complicata questa cosa tant'è che molti comuni hanno esistito però noi l'abbiamo portato avanti lo stesso anche nel 2019 però nel 2020 è saltata e purtroppo anche quest'anno non si è riuscita ad impostarla proprio per gli incogniti legati alla pandemia c'è però un progetto non c'entra diciamo c'è qualche similitudine ma una cosa diversa che è ci sto a fare fatica un progetto che l'anno scorso ha coinvolto diversi ragazzi nella manutenzione della città intendo panchine parchi eccetera questo è un progetto regionale finanziato dalla regione dove vengono selezionati gruppi di ragazzi con un tutor e fanno dei piccoli lavoro questo invece ripartirà ho avuto degli incontri proprio di recente come comune ho fatto richiesta spero di poter rientrare perché poi i fondi non sono illimitati perché comunque poi questi ragazzi alla fine ricevono anche un piccolo buono spesa diciamo così uniscono l'utile al dilettevole però l'idea è che si impegnino nella città anche durante il periodo estivo quando tutto sommato tempo libero è un bel segnale per loro si sentono utili apprezzano anche la città stessa per cui questo spero che si rientri perché appunto i fondi sono limitati i comuni l'anno scorso sono pochi quelli che hanno adorito noi siamo rientrati anche lo scorso anno speriamo di farlo anche quest'anno grazie al sindaco di Fossombrone per aver sistemato tutta la questione dei loculi nel cimitero centrale perché aspettavamo da tanti anni questa risposta quello del cimitero era anche questa una nota dolente che abbiamo riscontrato al nostro arrivo per quel che riguarda il capoluogo si è riuscito a costruire nuovi loculi a mettere un impiegato tempo pieno nell'ufficio che oggi sta funzionando secondo me molto bene adesso dobbiamo portare avanti la realizzazione dei loculi i fanno anche qui i soldi ci sono e questi sono loculi che partiranno e saranno realizzati poi una volta che iniziano i lavori non sono complicatissimi per cui mi auguro che entro l'autunno siano pronti la saluta Nicola da Via Querciabella ragazzo che appunto prima o la ragazza non riusciamo a capire dalla foto che prima le ha chiesto sia per il lavoro ma anche per il campetto e poi le dicono anche tiri dritto per la sua strada che sta facendo benissimo non ascolti tanti detrattori che dal primo giorno di lavoro non fanno altro che contestare forza è sempre avanti dai messaggi che ci sono arrivati insomma posso capire questa frase questa opinione si parla di uso da parte di giovani giovanissime anche di droghe leggere purtroppo che cosa sta facendo l'amministrazione comunale per contrastare questo fenomeno ma guarda questo in effetti è un problema Fossombrone ahimè non so per quale motivo ha storicamente una situazione relativa agli stupefacenti non proprio edificante io sono in continuo contatto in questo caso anche con prefettura questura forza dell'ordine non solo locali ma anche provinciali giro loro segnalazioni chiaramente adesso qui non posso entrare nel dettaglio però cerco appunto di tenere sotto controllo la situazione è una piaga purtroppo è un flagello io devo dire che in realtà gli interventi sono frequenti anzi faccio i complimenti ai carabinieri che ogni tanto portano a casa qualche risultato sappiamo di blitz che portano all'arresto anche di spacciatori però ecco effettivamente Fossombrone non ha da quel punto di vista una storia molto edificante non so spiegarti il motivo per cui forse la zona baricentrica che fa sicchi a tiri personaggi poco raccomandabili anche dai comuni limitrofi però effettivamente è un problema un problema nel quale qui è facile predicare bene razionali nel senso che sicuramente il controllo in questo caso aspetta molto anche le famiglie mi avviso la scuola che forse da quel punto di vista fa sempre più fatica a trasmettere quei valori mi riferisco non so anche alla parrocchia che è una realtà che purtroppo è sempre meno presente nella formazione dei ragazzi stesso discorso di prima qui l'amministrazione e le forze dell'ordine fanno un'opera di repressione diciamo così e punitiva ma deve essere più di formazione per cui ecco anche sui ragazzi però ci sono anche qui progetti sulle droghe sul cyberbullismo anche questo è un fenomeno purtroppo in forte espansione da portare avanti con le scuole per cui ecco qui bisogna che ci mettiamo tutti un po' di impegno per combattere questa piaga A Montalto a Tarugo ci sono delle strade di mappa di smesse dal comune che sono diventate private nonostante questo però le dicono sono diventate proprio delle pizze da cross si può fare qualcosa per cercare di contrastare questo fenomeno affinché non distruggano queste strade questo non so dovremmo parlarne con l'ufficio non so se sono strade private chiaramente il comune non può intervenire però se c'è questa pieda se non la conoscevo dico la verità a me personalmente non mi era mai stata segnalata però magari lo farò presente però anche qui ribadisco appunto l'appello non tanto per carità lo faccio volentieri però qui abbiamo un tempo molto limitato e tante informazioni ma rivolgesi agli uffici competenti anche con via mail o pecco quello che è insomma dicono che in altri comuni grazie a dei fondi e bandi europei sono stati creati dei progetti anche delle opere molto interessanti ad esempio il bike park a Fermignano c'è qualcosa in proposito qualche bando europeo qualche fondo previsto adesso progetti qualcosa forse vedremo anche dopo grazie a dei bandi ai quali abbiamo partecipato per cui adesso non ho una cosa così eclatante come può essere il bike park però ci stiamo muovendo cercando di attingere dove si può per portare avanti qualche risultato che riguarda soprattutto il discorso dei nostri beni culturali che sono una realtà a mio avviso molto importante invece i lavori per la banda ultralarga proseguono? quelli stanno andando avanti stiamo cercando di portare a termine un lavoro che riguarderà soprattutto o quantomeno porterà benefici soprattutto alle zone industriali che sono la zona industriale di Ghilardino di San Martino del Piano di Calmazzo e oggi l'importanza della banda larga è stata chiaramente portata alla ribalta anche dal discorso lockdown per cui l'aumento esponenziale della didattica a distanza piuttosto che dello smart working anche per quel che riguarda la telemedicina per cui è importante che questo lavoro stia andando avanti e siamo a buon punto prima di chiederle delle lezioni perché ci stanno chiedendo in tanti che cosa succederà se si ricandiderà vorrei guardare con lei alcune foto ritorniamo un attimo a parlare del mondo della cultura me le commenti lei sì questi sono gli scavi archeologici il parco archeologici il parco Forun Semproni questa realtà è importante sai che questo parco unico nella zona sono 25 ettari ancora in buona parte da esplorare ci stiamo lavorando con la provincia abbiamo fatto una convenzione ormai qualche anno fa che ha affidato al comune la gestione della manutenzione c'è molto interesse da parte anche della regione che ringrazio per aver istanziato anche delle somme da parte di privati è un parco che nel giro di qualche tempo ha cambiato un po' proprio l'impatto anche visivo cioè si vede che c'è una nuova gestione che è stata anche criticata questa scelta di prenderlo in gestione come fosse un onere un peso per il comune in realtà a livello economico abbiamo speso pochissimo grazie appunto a questi fondi intercettati e quindi è una realtà importante che va sempre più valorizzata e sempre reso più fruibile poi forse vedremo altre foto sempre relativi al parco questa invece è la rocca malatestiana un monumento purtroppo è in questo stato ma perché era stato abbattuto già nei tempi diciamo intorno al 1400-1500 dei proprietari per non lasciarlo in mani al nemico per cui non è che è dovuto lo sfacelo dovuto solo al maltempo al passare del tempo o l'incuria anche questa qui pensare a un progetto di recupero francamente io la vedo molto difficile come cosa perché sono cifre che non ho idea di quanto potrebbero essere però abbiamo ripulito di recentemente l'aria dal verde dall'erbaccia per renderla più più fruibile e sarà una delle mete di una cosa che poi vedremo più avanti abbiamo poi anche delle immagini ah ok ecco questi sono i mosaici presso il parco archeologico sono stati restaurati grazie a dei fondi grazie appunto a dei bandi e sono due e su questi due mosaici sarà a breve installata anche una copertura con un fotovoltaico grazie a un fondo regionale per cui questa è una realtà che sarà sempre più fruibile sempre più appetibile per i nostri visitatori perché comunque ripeto è una realtà veramente molto importante che merita di essere valorizzata e resa appunto fruibile per la gente perché è un'area enorme che merita aspetta solo quello però anche qui parliamo di cifre veramente importanti un pezzettino alla volta la stiamo portando comunque alla luce dovremo avere anche la balaustra della quadreria eccola qua è stata restaurata la quadreria Cesarini che è uno dei fiorell'occhiello della nostra città la balaustra è stata recentemente ristrutturata grazie all'Arbonus grazie a una donazione da parte della fondazione Cassa del Risparmio di Pesaro che ringrazio anche qui molti interventi volti a rendere la quadreria sempre più appetibile è una delle case del museo più importanti più belle delle marche questo ci più di una volta è apparsa in riviste specializzate per cui effettivamente il lavoro che stiamo facendo ci porta anche delle soddisfazioni dal punto di vista mediatico e pubblicitario state già organizzando degli eventi è vero che ancora è difficile perché tutto andrà in base alla curva pandemica i contagi però c'è già qualcosa in programma? guarda stiamo guardando un po' a breve termine perché fare progetti a lungo termine in questo momento come dicevi tu poco fa è difficile non sappiamo quello che si potrà fare tra qualche mese chiaramente siamo in contatto continuo anche con i commercianti sai che fossimo noi a cercare questo forum shopping estivo purtroppo le manifestazioni più importanti sono quelle che sono già saltate mi riferisco al carnevale storico alla mostra del tartufo bianchetto che in primavera non abbiamo potuto portare avanti per l'estate vediamo adesso c'è qualcosa un po' la volta che stiamo portando avanti ad esempio domenica abbiamo il weekend del FAI ecco le giornate di primavera al quale il comune di Fossombrone ha sempre aderito a parte l'anno scorso quando eravamo in pieno lockdown quest'anno proprio perché ancora siamo in clima pandemico anziché alla scoperta dei palazzi storici ci dedicheremo alla scoperta un po' delle vie all'aperto scalinate sulle quali siamo intervenuti per renderle più appetibili ripulite ristrutturate per cui saranno due belle giornate in cui collaboreranno oltre al FAI anche il CAI e anche i ragazzi del Donati che in queste occasioni sono sempre molto disponibili anche molto preparati ci stupiscono ogni volta per l'entusiasmo perché poi non è vero se gli dai le giuste motivazioni i ragazzi rispondono sempre in maniera molto positiva e sarà necessario prenotare sì magari rivolgersi al punto yacht però ecco sono passeggiate all'aperto per cui qui problemi di distanza non ne abbiamo e poi vediamo il trekking questa invece è un'altra iniziativa portata avanti dal nostro punto yacht in collaborazione con il CAI per delle passeggiate che si svolgeranno nelle prossime domeniche di maggio qui invece occorre prenotare ci sono tutte le informazioni sulla pagina facebook del punto yacht sono tre passeggiate alla scoperta dei luoghi di Fossumbrone che sono dalle marmite dei giganti piuttosto che gli scavi archeologici che abbiamo visto prima e accessibili a tutti non sono camminate agonistiche sono passeggiate per cui le può fare veramente chiunque poche ore di camminata gli consentiranno di vedere sia bellezze artistiche ma anche di approfittare di stare aperte a vedere bellezze naturali Sindaco siamo in chiusura quindi vado a leggere un messaggio che più o meno racchiude anche le domande degli altri potete chiedere al Sindaco se si ricandiderà per il suo secondo mandato visto che le elezioni saranno ad ottobre ottobre in realtà è il prossimo autunno ma ancora non abbiamo la data no non sappiamo la data perché sarà compresa tra la metà di settembre e la metà di maggio salvo ulteriori proroghe ma non credo vista insomma la situazione penso che insomma sia il momento di andare a votare non sono state spostate da circa sei mesi lascio quel punto interrogativo perché ancora c'è un po' di tempo e quindi svelare le carte troppo presto non è mai secondo me una buona idea però non scarta al momento deciderà nei prossimi mesi stiamo lavorando come amministrazione per cui come pensa comunque di aver lasciato Fossombrone se c'è qualcosa o qualche opera di cui ne va particolarmente orgoglioso ma guarda adesso un qualcosa in particolare forse no nel senso io la cosa di cui vado fiero è quella che sicuramente possiamo parlo per me ma parlo anche sono sicurissimo per tutti i miei assessori e consiglieri camminare a testa alta nel senso che abbiamo fatto tutto il possibile considerate le difficoltà derivanti da una situazione progressa derivanti da un'inesparienza che inevitabilmente avevamo e derivanti che dall'affrontare l'ultimo anno e mezzo che è stato veramente drammatico dal punto di vista del Covid ci ha portato ad affrontare una situazione che è spaventosa e sconosciuta per tutti per cui abbiamo cercato di fare il possibile nell'interesse esclusivo della città senza mettere mai di fronte le proprie aspirazioni il proprio tornaconto tantomeno mai fatto una scelta non dico che sia stata fatta in precedenza lungi da me però voglio dire non sono mai state fatte scelte che andassero a beneficio di qualcuno o a sfavore di qualcun altro semplicemente si è cercato di portare avanti il nostro programma quelle che erano le nostre idee dandoci le nostre priorità secondo me su alcune cose siamo riusciti bene mi riferisco alla sanità per quel poco che si può fare perché comunque ricordo che l'ospedale di Fossumore è rimasto l'unico totalmente pubblico nell'entroterra mi riferisco ad esempio al discorso turistico culturale dove a mio avviso abbiamo fatto tanto portato a casa buoni risultati che nell'ultimo anno sono stati paralizzati da questa maledetta pandemia su altre cose si poteva far meglio per cui se i cittadini ci vorranno dare fiducia fra qualche mese vedremo di portare avanti il programma che volevamo concludere in 5 anni ma che in effetti in alcuni casi non si è riuscita a completare comunque vedremo ci sono certamente tante cose ancora da fare tanti progetti da portare avanti per la città ma dicevamo anche prima appunto delle marmitte insomma tante cose che dal punto di vista turistico sì anche qui ci sono dei progetti in corso parliamo quotidiano non dico quotidianamente ma quasi con l'associazione di quartiere anche perché quella è veramente una risorsa che in questi ultimi due anni è veramente esplosa tra virgolette dal punto di vista turistico va regolamentata perché poi dopo il troppo può diventare dannoso quindi va sicuramente sistemata dal punto di vista degli accessi però ci stiamo lavorando e la pulizia fatta pochi giorni fa anzi ringrazio a nuovamente i volontari è proprio un primo passo per cercare anche qui di valorizzarla al meglio e tenere più pulita e più bella la nostra città assolutamente grazie al sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci per essere stato con noi grazie a te e buonasera a tutti ringrazio anche Cristiana Guerra Riccardo Sora sarà in regia vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione in diretta è domani mattina alle 7 con la Rassegna Stampa arrivederci grazie ancora grazie a tutti